Il conflitto che si sta tenendo in queste ore impone delle riflessioni anche per quanto riguarda la nostra economia. Allora, cerchiamo di capire insieme al direttore dell'Unione Industriale biellese quali sono le ripercussioni sia per quanto riguarda l'export, ma forse anche e soprattutto per quanto riguarda le fonti energetiche. Buongiorno. Buongiorno, grazie per questa occasione di poter dire come la pensiamo, ma io credo che il primo problema, prima ancora di quello economico e di quello che lei citava, ci sia un problema di democrazia, nel senso che l'Occidente ha dato finalmente prova sia militare che politica, su tutti e due i fronti, di compattezza. E quindi questo lo considero molto positivo e considero davvero, come dire, l'aggressione operata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina. Spero, ma non sarà così, l'ultimo esempio di una dittatura devastante. Dal punto di vista, o nomi, o al di là dell'export, le cifre, l'ha già detto la vicepresidente Chiara Bonino, quindi non so a ripeterle, io temo però che il problema non sia l'export. Il problema è che questa crisi russa-ufraina ci impone di ripensare alle fonti energetiche. E significa anche avere una strategia diversa di questo paese, perché noi oggi dipendiamo, al contrario della Francia, dal gas, nella misura del 40%, oltre un 22%, vado a memoria della Francia, perché a suo tempo eravamo contro il nucleare, come è noto. Noi siamo sempre contro qualcosa, però dobbiamo diventare green. Green ovviamente facendo le cose a casa degli altri, perché siccome siamo anche un pochino egoisti, quando diciamo le biomasse, per fare un altro esempio, sono la soluzione, una delle possibili soluzioni, le biomasse passano attraverso i termovalorizzatori. Le biomasse non sono una magia. Allora mi chiedo, o nemmai a Cavaglià, per fare un esempio vicino a Sanostra, sono tutti contro il termovalorizzatore, dicendo anche che Cavaglià verrebbe deturpata essendo un noto luogo turistico. Allora, io forse sono un po' singolare, però io ho visto un sacco di turisti a Portofino, molti meno a Cavaglià, però forse bisognerà ripensare anche il turismo. Quando si parla di temi enormi, internazionali, è utile, concreto, scendere anche nel locale. Ad esempio, per quanto riguarda anche la nostra discarica di Cavaglià, è tutto chiuso, i nostri rifiuti vengono portati in Lombardia. Non solo in Lombardia, in Germania, in Francia, in Lussemburgo. Quindi, voglio dire, noi come sempre vogliamo fare i verdi a carico degli altri.